Festeggiamo ormai un anno di costituzione della Proloco di Vagna e delle sue frazioni e il primo progetto che abbiamo portato a conclusione è una nuova mappa dei sentieri molto frequentati durante tutto l'anno da turisti sia italiani che stranieri. Questa iniziativa abbiamo potuto realizzarla grazie al sostegno delle attività turistico-ricettive della nostra zona che hanno sostenuto il progetto e grazie anche a Luigi Tripodi che è un grafico che ci ha aiutato nella predisposizione della mappa. È una mappa che riporta i principali sentieri e le principali località con i punti di interessi della montagna di Domodossola. Oltre a questa iniziativa moltiplici sono le attività che abbiamo in programma per questa stagione estiva e poi durante l'estate ci saranno diverse feste nelle diverse frazioni per terminare poi a settembre con la ormai tradizionale agricoltura feste.